buongiorno ci troviamo in Veniano e oggi vi farò vedere questo ultimo appartamento che è un monolocale disponibile, un monolocale dove troviamo l'angolo cottura un'ampia zona giorno luminosa con questa magnifica vetrata che ha faccia sul campanile da quella porta finestra con l'alzante scorrevole si esce sul terrazzino coperto in parte e su quella che è che sarà poi l'area giardino che adesso comunque è ancora da riempire e livellare completano tutto un box doppio per la lunga il piano interrato e la centrale termica per maggiori informazioni contattatemi al 331 77 36 797 geometra marchese .